Di sotterra raccogli pentagramma pauroso in una sola partita Allora dovete atterrare a timpani terribili Vi consiglio tanto di completare l'incarico in risa a squadre quando la zona è dalla vostra Così almeno non avete problemi con i nemici Allora il primo punto lo trovate direttamente nel campo delle zucche Usate il piccone per raccogliete il foglio Poi vi dirigete in direzione del campo da mais Allora potete già trovare gli zombie e anche i polizombi Per completare la seconda parte dell'incarico Io lo faccio in un video separatamente Allora come detto qua nel campo di mais Trovate già il secondo libro Poi andate in direzione del mulino a vento Come vedete usate di nuovo il piccone Raccogliete poi il libro E adesso vi dirigete in direzione del fienile All'entrata del fienile barra garage Trovate il quarto Usate di nuovo il piccone Raccogliete libero E una volta arrivati in lobby riceverete la rincompensa Raccogliete libero Raccogliete libero Raccogliete libero E una volta arrivati in cicla Raccogliete libero Raccogliete libero Raccogliete libero Raccogliete libero